Salve ragazze, postazione cambiata, ci troviamo nel mio bagno per parlarvi di due prodotti pagati con i soldi delle mie taschine, quindi non faccio promozione a nessuna ditta eccetera eccetera semplicemente li ho sperimentati, li ho testati sui miei capelli, sulla mia capoccia e posso dirvi di essermi trovata molto bene io sono una frequentatrice di piscina, nel periodo invernale ci vado circa due volte a settimana se non tre a volte quindi posso dire che questi prodotti hanno superato alla grande la prova cloro e posso anche dire che sicuramente possono superare alla grande la prova salsedine e sole ripeto io sono per i prodotti bio, biologici diciamo in qualche maniera cerco di evitare delle componenti chimiche presenti magari in molti prodotti che si trovano in commercio e quando ho letto delle recensioni o visto delle review in merito ai prodotti della Fito sono stata un po' colpita e anche interessata dalla questione pertanto niente mi sono affionata in farmacia e come primo prodotto ho acquistato questa la Fitocheratine chiamata Fitocheratine ma pronunciata Fitocheratine che è uno spray riparatore termico e ottimo, ve lo giuro ragazze, ottimo cioè io l'ho provato e testato da marzo la prima settimana di marzo ho acquistato il Fitocheratine e alla metà di marzo invece, o per la gioia del mio farmacista ho acquistato la crema Fito9 e ovviamente io almeno li utilizzo in maniera differente vi spiego, io in genere utilizzo fare degli impacchi pre-shampoo con l'olio di cocco cioè prendo l'olio e me lo sbatto sulle lunghezze dopodiché faccio un bello shampoo con questo detergente intimo della Cien che io adoro comprato dalla Lidl, mezzo litro, 1,99 euro lo utilizzo veramente per tutto per tutto, per l'igiene intima, per l'igiene quotidiana del corpo e anche come shampoo e che, perché? perché mi toglie, diciamo, elimina dal capello quell'effetto unto dell'olio di cocco lasciando però un capello idratato visto che poi, dopo un bel impacco pre-shampoo insomma, la necessità di mettere un balsamo è abbastanza limitata o minima cosa faccio? sciacquo bene utilizzando il detergente intimo della Cien body wash e poi mi do 5 spruzzate precisamente una sulla capoccia e le altre 4 sulle lunghezze considerate però che io ho dei capelli medio lunghi considerate che questi sono 150 ml di prodotto e io li sto utilizzando dai primi giorni di marzo quindi marzo, aprile, maggio, giugno e stiamo ai primi di luglio e ancora ce ne stanno però ecco, io vorrei investire nuovamente i miei 15-16 euro per andare a comprarlo in farmacia perché è veramente ottimo veramente ottimo nulla oltre ad una protezione termica quindi per le piastre e per il phon io ho notato anche un'ottima proprietà districante in questo prodotto vi giuro che l'Inci l'ho letto nelle mie competenze limitate posso dire che veramente sono dei prodotti degli elementi che compongono il prodotto buoni biologici comunque andando a controllare sul biodizionario e tutto il resto che non ci sono dei grandissimi che non ci sono conservanti chimici insomma non c'è paraffina non c'è parabeni non c'è sostanze chimiche di questa entità ecco quindi questo fitocheratine io lo uso non solo per proteggermi dal calore del phon perché poi piastra non se ne parla proprio cioè i miei capelli la piastra la ripudiano se non di più ecco il fitocheratine lo uso anche come districante nel senso dopo un bello impacco pre-shampoo faccio un bello shampoo con l'Intimate Body Wash e poi ci spruzzo 5 zic di questo sulla capoccia e sulla lunghezza per completare l'opera dopo 15 giorni interessata dalle recensioni di fito9 riso al ritorno dalla mia farmacia di fiducia e il farmacista bello mio giustamente quando mi vede si sfrega le mani e nulla e ho acquistato il fito9 il costo credo fosse intorno ai 19 euro 17 o 19 non voglio dirvi una stupidaggine però poco poco di più rispetto al fitocheratine l'utilizzo che io ne faccio è mettendo una bella noce sulle mani sfrego per riscaldare il prodotto e poi lo applico sulle lunghezze dei capelli e lo utilizzo non sempre perché questa sarebbe una crema da giorno per dare nutrimento e brillantezza appunto la utilizzo qua un giorno sì due no quando vedo che comunque i capelli hanno necessità di quel tocco in più di nutrimento perché già li nutro abbastanza voglio dire impacchi ogni cosa insomma ecco adesso non esageriamo come si dice da me e quindi nulla è un ultra idratante ottimo e la confezione è di 50 ml scusate dove sto di 50 ml e ha una durata una scadenza di 6 mesi quindi l'ho acquistato a metà marzo o ancora qualche mesetto per utilizzarlo qualche sì mese per utilizzarlo e niente io utilizzandolo costantemente cioè ancora ce n'è abbastanza quindi sono dei prodotti che sì ok costicchiano comportano diciamo una sorta di investimento iniziale vi garantisco ne vale la pena cioè io non sto sponsorizzando la Fido e non ho proprio intenzione di sponsorizzarla anche perché il mio canale è molto piccolo quindi non mi prenderebbero nemmeno in considerazione pur volendo però ecco li ho sperimentati li ho usati e vorrevo anche io dare una mia parere su questo prodotto anzi su questi due prodotti come la maggior parte diciamo delle bloggers e delle youtubers che parlano di questo marchio comunque hanno parlato però io li ho comprati con i miei soldini vabbè ragazzi spero di esservi stata d'aiuto per la stagione che ormai spero sia iniziata e proseguo alla grande con grandi giornate di sole e con grandi bagni di sole e di sale un caro saluto bacioni a tutte ciao ciao